Amici e amiche di LegaNerd, bentornati! Io sono Alessio, sono il vostro traghettatore scientifico per quanto riguarda Eureka. Iscrivetevi al nostro canale di YouTube e attivate la campanellina per quanto riguarda le ricezioni di tutte le nostre notifiche. Ma ciancio alle bande e torniamo alla nostra scienza, perché oggi, in 5 minuti, spiegheremo che cos'è il metodo scientifico. Quindi, sigla! Dunque, il metodo scientifico, a differenza delle parole, non è soltanto dedicato alla scienza. Nasce più di 500 anni fa, praticamente con la nascita appunto di Galileo Galilei. Anticamente l'uomo ha sempre cercato di trovare una risposta per quanto riguarda l'ignoto e il mistero, soprattutto per quanto riguarda i fenomeni naturali. Ovviamente tutti questi fenomeni, prima dell'ingresso del metodo scientifico di Galileo, erano stati attribuiti a stregoneria, alla magia o alla divinità. Con Galileo Galilei è stato introdotto il metodo scientifico sperimentare. Esso si basa su una prima osservazione, seguida da un esperimento, sviluppato in maniera controllata, in modo tale che si possa riprodurre il fenomeno che si vuole studiare. Quindi trovare una razionalità in tutto ciò che abbiamo di fronte, che sia misterioso, che sia un fenomeno naturale, che sia un fenomeno ovviamente ignoto. L'esperimento ha lo scopo di convalidare o contestare l'ipotesi che lo scienziato ha formulato, ipotesi che ha lo scopo di spiegare i meccanismi alla base di questo particolare evento. Nel primo caso convalida l'ipotesi, quindi si procede con l'esecuzione di un gran numero di esperimenti, in maniera tale che i risultati acquisiti siano attendibili, un'analisi statistica. I dati raccolti vengono elaborati e successivamente viene formulata una teoria. Ovviamente quest'ultima teoria viene utilizzata spesso insieme ad altre teorie per formulare una legge vera e propria. La teoria ipotizza la causa, o le cause, all'origine del fenomeno naturale, mentre la legge descrive un fenomeno che avviene con una certa irregularità. Quindi nel secondo caso, il rigetto dell'ipotesi, l'ipotesi viene modificata e sottoposta ovviamente a nuovi esperimenti. Ricordate che uno scienziato non si ferma mai alla prima sconfitta, se possiamo chiamarla sconfitta. Si cerca sempre di trovare un altro esperimento o un'altra via per cercare di arrivare a una soluzione. E il metodo scientifico in questo è fondamentale. Il metodo scientifico ovviamente si basa anche su alcuni presupposti, ad esempio che gli eventi naturali osservati hanno delle cause precise e identificabili, che ci sono degli schemi utilizzabili per descrivere quanto accade in natura. Che se un evento si verifica in una certa frequenza, alla base, c'è la stessa causa. Che ciò che una persona percepisce può essere percepita anche da altri, che si applicano le stesse leggi fondamentali della natura, indipendentemente da dove e quando si verificano determinati eventi. Non ci sono quel luogo a quell'evento perché in quel momento è stata fatta quella cosa. No, ci sono sempre delle cause razionali e scientifiche in tutto ciò. In pratica, per concludere, il metodo scientifico è un modo di conseguire informazioni sul meccanismo di eventi naturali proponendo delle risposte alle domande poste. Per determinare se le soluzioni proposte sono valide si utilizzano dei test e gli esperimenti sono appunto i nostri test, condotti in maniera rigorosa. La rigorosità del metodo scientifico risiede nel fatto che una teoria non è mai definitiva. Il metodo scientifico non è soltanto un metodo utilizzato dalla scienza. Ricordate che una costante critica è fondamentale per la nostra vita. Quindi il metodo scientifico potrebbe essere traslato in tutta la nostra tipologia di studi, non soltanto scientifici ma anche letterari, umanistici o sociali. Il metodo scientifico è un vero e proprio dogma etico per quanto riguarda la nostra metodologia di approccio alla vita. Ricordatevi sempre che confutare e continuare a ricercare un qualcosa non è non credere, ma è semplicemente un continuo controllo e una verifica di tutto ciò che abbiamo studiato. Quindi grazie a Galileo riusciamo ad avere questo metodo scientifico anche applicato alla nostra vita. Grazie ragazzi e alla prossima!